Rafa, Rafa, fa lo scavetto, il cross, anticipato Rebic, tiro, la parata, la deviazione, Charles, Charles, la deviazione, Charles, allarga per Raffaellino, che mette in mezzo il pallonetto. Orsic contro Kia, era Orsic contro Kia, era attento Simon, attento Simon, Simon lo aspetta al cross di Orsic, il colpo di testa e il salvataggio da parte di Matteo Gabbia. Sandro dentro, dentro, bella, Rebic, 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 murano ancora loro, grande occasione nostra. Pierre studia il cross, è un bel cross, Giroud, la grande palata di Livakovic, la grande deviazione di Olifié. Matteo che lascia a Sandro, Sandro, bella, bella gol, gol, bella gol, gol Matteo, Matteo, il gol della cantera, il tuffo di testa. Raffa, 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 gol, la palla è rimasta lì, incollata Raffa, ed è arrivato il 2-0, solo davanti al portiere, Raffaele Leao. Palla dentro per giro anticipato, spicchi ci apposta di Rischowski, pressing di Tonari che finisce a terra a rigore, porta a casa a rigore Sandro, porta a casa a rigore Sandro. Gol, bellissimo rigore, bellissimo rigore, quasi all'incrocio 3-0. Leao vuole la palla a Oli, eccolo Oli in area, eccolo Oli, il tiro, il miracolo di Livakovic. Ma esce alla grande Ben Nasser, ma come gioca pallone Ben Nasser ragazzi, come gioca pallone, vediamo se Leao se ne va, vediamo se Leao se ne va. Leao contro Schuttalo, Leao, 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 è solo, Leao, il tiro deviato da Giroud e poi l'autorete di Liubicic. Grazie a tutti.